Potrei farne tante altre di queste domande. A Monte c'è quella che ci facciamo oggi. Perché la famiglia è un nemico? Perché la famiglia fa così paura? C'è una risposta unica per tutte queste domande. Perché ci definisce? Perché è la nostra identità? Perché tutto quello che ci definisce in questo tempo è un nemico? Per chi vorrebbe che non avessimo più un'identità e che fossimo solamente schiavi, consumatori perfetti. E allora è sotto attacco l'identità nazionale, è sotto attacco l'identità religiosa, è sotto attacco l'identità di genere, è sotto attacco l'identità familiare. Non devo potermi definire italiana, cristiana, donna, madre, no. Io devo essere cittadino X, genere X, genitore 1, genitore 2, devo essere un numero. Perché quando sarò solamente un numero, quando non avrò più un'identità, quando non avrò più radici, beh allora sarò lo schiavo perfetto in balia della grande speculazione finanziaria. Il consumatore perfetto. E questo piaccia a un Noah del sacro. Lo difenderemo. Difenderemo Dio, la patria e la famiglia che fanno tanto schifo a qualcuno. Lo faremo per difendere la nostra libertà perché noi non saremo mai schiavi e semplici consumatori in balia della speculazione finanziaria. Ecco la nostra missione, ecco perché oggi sono venuta qui. Scriveva Chesterton ormai più di un secolo fa. Vediamo se ve lo trovo. Fuochi verranno attizzati per dimostrare che 2 più 2 fa 4. Spade verranno sguainate per dimostrare che le foglie sono verdi in estate. Quel tempo è arrivato, signori. Siamo pronti. Grazie. Grazie.